ah no 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 ma stai piangendo davvero ciao frenzy questo video sono insieme ai FNZT ciao siamo qua a giocare a un gioco parecchio horror se vogliamo chiamarlo in questo modo praticamente è Violet già sa di cosa sto parlando perché ha letto next bot e già li conosce è una moda che sta andando in giro per tutto questo tempo e di conseguenza andiamo perché non ce ne pentiremo sicuramente in quale stanza stai guardando questo video scrivimelo questo sulle commenti che ti lascia il cuore se mi risponde questa domanda dai vai Violet devi essere devi essere forte va bene forte ragazzi potete correre con shift semplicemente dovete sopravvivere a una faccia che potrebbe rincorrervi da un momento all'altro no ti prego no oddio 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 tipo quali tipo quali tipo quali tipo quali tipo quali tipo quali ma dove state voi mi dispiace vai dovete sopravvivere ok dovete sopravvivere il più possibile sono morto oddio 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 mi raccomando se vuoi continuare a vedere questo video devi lasciare like proprio in questo momento esattamente bravissimo ecco vedi stanno arrivando tutti i vostri like così che appunto il video può continuare bene il video continua scappa di sotto scappa di sotto scappa di sotto apri qua apri qua no sono morto ma Zoe è quella che è più in vita ah miglior tempo sta facendo Zoe ciao Grucco Grucco devi scappare ok i next morti potrebbero prenderci oddio possono rompere le porte dove siete ragazzi oddio ah ah c'è la guada ragazzi vedo meno delle tre dili di incontrarci lì incontrarci tutti quanti va bene proviamoci ok venite venite nella hall tipo del centro commerciale c'è di un colito io gigante trovate a venire nella hall ok ci sono cinque persone oddio che paura oddio che paura ok mamma mia sta arrivando sta arrivando sta arrivando ragazzi lì in fondo sta arrivando Venite nel parcheggio Oddio ragazzi Siamo bloccati Sono ancora viva Sono morta anch'io Allora dobbiamo fare il più Ah ma possiamo fare pure una scivola Oddio c'è Freddy dietro di me Perché c'è Freddy dietro di me E va bene C'era Freddy dietro di me Violette dove sei Violette Violette sta avendo problemi Mi sa Ma tranquilla C'erano tre Ma sei nascosta No sto camminando nel parcheggio Non ti vedo Non sei nel parcheggio E sono sotto Ragazzi ho cinque facce tutte da me Come faccio Io non mi vedo Oh forse ti ho visto Violette No non mi hai fatto da qui Non mi hai fatto da qui Non mi hai fatto da qui Sono sicura E so credo che c'era qualcuno Dove sei Violette C'erano tipo quattro dietro Mi prego E sono sempre nel parcheggio Ragazzi ma ti sta chiudendo il parcheggio Vedo tipo che si chiude Vabbè vieni qua Ma dov'è Ecco di Grucco Dov'è Dov'è Violette Eccola qua Finalmente Violette Allora Stai cari Vieni quando qualcuno Oddio sì Oh scappa Scappa sopra 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 Non ci voglio credere Non possiamo andare Siamo morti Dove sei? Va va Ci metti Qua da me 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 Grucco scappa 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 Grucco scappa No Grucco Ciao Oh bravo Grucco Bravo bravo Portamelo via No mi sto arrivando Che paura Orca miseria Violette Rirando scherzando È quella che tipo Stava arrivando più punti Come? Violette Dobbiamo continuare a giocare Dobbiamo fare il più punti possibili Dobbiamo Dobbiamo andare a destra Perché sto a sinistra Ok 3 2 1 Via 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 Oddio Ciao Via 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 Emilia echo Riscita Rimanele in vita Porca miseria Ragazzi Dove siete? Comunque Ma se è saltata Andate più veloci Ragazzi Se fate cosa? Se è saltata Andate più veloce Ma si? Ok Vedi vai Ciao Ti avendo paura Ragazzi Il problema è che sono uno è vero ragazzi ragazzi questo io sono dietro violet ma però vedi il tempo che stiamo nella tape non va non basta il problema io sono un po incastrata ok attento non possiamo andare avanti io sono nel parcheggio aspetta ok ragazzi potete saltare e andate tipo velocissimi se saltate comunque sono anche nel parcheggio ok c'è una palla che si fa una palla qua non voglio giocarci nesta ma che sto salendo sopra c'è niente però dove sopra questa aspettate un attimo vabbè ma è che se tipo camminiamo ci sentono di meno invece che 3 ragazzi quando vengono riuscire mai che non eBE nei bagni per l'imp birthdays come dio medio 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 dottima di medium io mio dio mio dio mio dio mio dio dio mio dio mio dio mio dio mio dio mio non vanno via questi ragazzi ce l'ho pure sento un suono bruttissimo dai 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 dimmi che sono andato ti prego ma che cavolo non riesco uscire ragazzi io sono mamma mia sto facendo il mio record io forse eppure io io già l'ho battuto il mio no 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 mamma mia mamma mia no arrivo perché non ti va mannaggia sono morto sono morto arriva 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 arrivo io se riesco a trovarti in qualche modo ok senti 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 vieni com'è vieni com'è ok ma io letto davvero spaventata ma io letto dai un gioco ma stai piangendo davvero dai non ci lascia appena usciamo tornano forse morto ragazzi mio video mi sono ma come ciao